salve ragazzi e benvenuti al nono episodio dell'endurance di montespago siamo arrivati al penultimo amp oppure il mio h o anche detto che ve li faccio vedere ci sono due amplificatore il hovest e il sud prima di tutto come sempre volevo ringraziarvi per chi ogni giorno shoppa con il mio codice creatore c metrattino basso bando 88 siamo molto molto vicino all'estrazione quindi poi non mi lamentate se non avete ancora inviato la clip su instagram che ha come il codice creatore che avete shoppato almeno 200 b con il mio codice quindi ricapitolando contesto supportatore solo per chi invia la clip dove shop ora tornando a noi grazie mille ragazzi lasciate un like qui sotto se vi è piaciuto il video e se vi è piaciuto i scorsi video e lasciate un like alla fine quando quando sarà finito questo video se vi sarà piaciuto questo video siamo arrivati al penultimo amplificatore come vi dicevo prima il prossimo sarà la f innanzitutto partiamo quando viene attaccato questo questo amp viene attaccato le ondata 9 che c'è il wargames negato l'ondata 19 o anche ondata tecker l'ondata 29 dove ci sono tre mini boss e aggiungiamo anche come sempre le ondate casuali dove c'è l'ondata 5 l'ondata 10 ondata 11 ondata 16 ondata 21 è andata 26 queste ragazze sono le ondate dove può essere attaccato questo amplificatore andiamo avanti vi faccio vedere prima il sud dove nascono gli obiettivi nascono da qua praticamente e io mi ho messo subito due sonori per i bombaroli la chiusura perché li faccio passare solamente da una parte qui ci metto ragazzi i campi con un aumento sanitario edificio o quali si struttura vi ripeto qui sopra guardate sonora sonora ovviamente le sonore queste hanno un tempo diverso come vedete perché una cosa importante qua ragazzi sono i bombaroli se bombaroli gli spaccano si è tempo nella cacca quindi cosa è importante ragazzi sono i bombaroli perché questa è una multifunzione danno fk come vedrete poi venite su doppia sonora sonora gommoni gommoni campo sonora pugno alcuni legno a terra pugno sonora campi campi venendo qua ragazzi dove c'è questa salita le portate la curva e qui sotto poi vedete il meccanismo poi qua qua ragazzi non ho messo nessuna trappola perché da qua partiamo con la mezza fk fk visto danni pugni ragazzi almeno due impatti perché devono devono arrivare qui sotto gli avventi qua ragazzi serve più che altro per lo smasher questo qua lo smasher dovrà fare questo giro e poi voi lo killate siete pronti da qua il momento in cui lo smash arriva qua cercate di killarlo in modo tale che non vi stressa le palle quindi ricordatevi da questa salita qua destra è molto facile da replicare questa qua è una scala ragazzi è una scala artificiale quindi ricordatevi scala artificiale dove ho messo un altro abitume un altro sonora da un altro pugno poi venendo qui sopra siamo di nuovo al pugno un'altra di turma qua un altro pugno e poi ragazzi una trappola intera sia per i bombaroli che per i lanciatori altri antieri per i lanciatori e venendo poi ragazzi questa la costruzione dell'amplificatore qui dietro non serve perché non arriveranno qui dietro quindi tuteliamo solo la parte avanti verso i due spawn ecco qua qui ragazzi state pronti perché arriveranno tre mini boss e qua con lo scudo butterete di sotto oppure se non ce la fate nel primo round ne potete buttare in sotto anche da dietro qua ma non fa niente ragazzi ricordatevi questa questa salita artificiale è molto facile qui sotto ragazzi quando cadono fate una struttura con sempre con sonora sonora pugno pugno per rallentarli ancora di più e tornano su riprendo nel danno della trappola e così via e rifaranno questo giro è un altro molto sviluppato sviluppato molto bene ragazzi guardatevi che qui c'è l'ondata 29 quindi non potete rischiare di perderla quando arrivate qua l'ondata 29 se volete spammare anche altre trappole non rischiare fatelo anche perché poi ci sarà solo l'ondata 30 che è la f vediamo i muri dietro vediamo i muri dietro innanzitutto chiudete questa salita qui sotto così la piramide del pavimento ma ragazzi chiudete due pavimenti piramide muro piramide piramide muro qui sopra muro piramide e pavimento editato piramide e pavimento editato piramide e pavimento editato piramide e pavimento editato poi qua dietro di uno solamente qua piramide e pavimento editato piramide e pavimento editato e qua c'è lo spawn ragazzi qui dietro ancora uno fate a scalare poi fino a dove potete farla l'ultima questa sera salitella un'altra piramide e qua piramide e un altro e altri muri dietro ragazzi è semplicissimo qui dalla parte fate anche questo muro qua questa è la parte invece dipenderà dall'altro spawn è chiarissimo ragazzi andiamo a vedere l'antistreghe dall'amplificatore ok venite uno in avanti iniziate quella piramide evitata la fate salire di 22 piramide evitata poi qua l'allargate di uno sopra due e poi finito sotto qua 22 e qua di nuovo la piramide niente di più facile ragazzi e guardatevi ripartire la lamp e quadro che ci sono le trappole invece quando ci sono le trappole faccia salire perché ci sono i lanciatori da sotto che potrebbero lanciare e questa è la parte diciamo più difficile perché l'altra parte ragazzi se vi attaccano all'info ovest ve la potete fare comunque tranquillamente fk andiamo a vederlo il ovest gli abiett ispanoli da qua gli abiett ispanoli da qua vengono su campagna libera qua ragazzi abbiamo messo sonora sono più sempre per i bombaroli sonora sonora qui dietro ragazzi chiuso perché sono i lanciatori voglio farne il giro largo per venire a lanciarli chiudiamola e poi alla fine quale strutture possiamo anche preservare perché bastano queste quindi sonora 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 chiudiamo a destra con quattro pugni ragazzi poi piramidi e pavimenti editati raccomando importantissimo con piramidi pavimenti editati e altro muri dietro poi ragazzi di qua chiusa perché sennò tenteranno sempre di spaccarvi a passare di qua anche questa qua centrale ragazzi la chiudete pugni con aumento salute piramidi pavimenti editati piramidi e pavimenti editati piramidi senza pavimenti muri 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 ovunque fino alla fine lo spawn dove lo facciamo arrivare facciamo passare tutti qua prendete con riferimento questa salita pugno così li butta giù qua dietro ragazzi mi raccomando chiudete con due pugni sono gli abietti si baggano qua o vi lanciano oppure vorranno spaccare quindi due pugni che li ributtano ad altro mondo quindi vengono qua ragazzi pugno sonora e poi iniziano gli aculi in queste mezze fk danni come vedete perché gli aculi verdi e blu non li uso gli aculi questi fidati i ragazzi fanno danno non ne smessere così ma i piccoletti fa danno quindi pugno pugno qua un altro pugno poi questo ragazzi è come vedete faccio vedere da di qua l'abbiamo fatta non c'è sotto un vero poco muro è creata artificialmente l'ultimo muro è qua ok qua questa da questa casella in poi l'abbiamo fatta noi quindi 12 poi piramide editata al salire e qua si ricollega come vedete all'altro muro ve lo faccio vedere ancora di qui quindi qua ragazzi fino a venite l'ambificatore qua dove mettete queste altre due perché magari un bombarolo ci arriva da laggiù e lancia di questo servono entiere per i bombaroni oppure per un lanciatore che si banca quindi ragazzi ricordatevi questi muretti dopo la curva pugno pugno sempre a culi pugno pugno e potete passare tranquillamente tutta l'ondata fk facilissima ragazzi veramente facilissimo ricordatevi tutte quante le chiusure ci manca solo un amplificatore fatemi sapere ragazzi con un bel like se vi è piaciuto questo amp continueremo a portarveli e anzi porterò anche altre cose perché vi ricordo che i miei amplificatori sono in danno senza sbalzatori perché vuole fare gli achievement quindi posso portare in mille altri modi posso mettere sbalzatori posso fare molto più facile ricordatevi che finire 30 andate con questi spawn kill significa che voi sapete quello che fate perché non è uno spawn per stare così tutte le tre ore ricordatevi quindi complimenti a voi che mi seguite lasciate un bel like lasciate un bel commento ragazzi ci vediamo al prossimo video delle 30 andate dove sarà l'ultimo amplificatore vi do un bacione ci becchiamo al prossimo live buone vacanze perché in vacanza ciao bello